Oggi passiamo per Comacchio e andiamo anche a visitare le sue valli, chissà, magari becchiamo i fenicotteri Come si chiama questa passeggiata? E poi pensi, perché non mi sono portato dietro la Sony, soltanto l'obiettivo? E poi pensi, perché non mi sono portato dietro l'obiettivo? E poi pensi, perché non mi sono portato dietro l'obiettivo?